Minaccia la sorella, poi si scaglia contro il fratello e il padre, semplicemente perché gli hanno negato di usare un'automobile. Il comportamento aggressivo del giovane ha costretto il genitore a denunciarlo. L'intervento dei carabinieri a San Martino di Lupari, nell'Alta Padovana, per sedare una lite familiare. Alla fine i militari hanno raccolto la denuncia del padre, esasperato dall'atteggiamento dispotico del figlio di 20 anni. Il ragazzo aveva chiesto alla sorella di prestargli la macchina per qualche giorno, perché più prestigiosa di quella in suo possesso. Ma il suo rifiuto ha minacciato prima lei, poi gli anziani genitori e il fratello ventiquattrenne, scagliando loro contro delle bottiglie di vetro. Tensioni che sono continuate il giorno successivo, quando il ventenne ha chiesto soldi al fratello, da qui l'ennesima lite violenta in cui lui ha minacciato di ucciderlo. L'uomo, quindi impaurito, si è chiuso in auto ed è scappato. Il giovane, inseguito dal fratello, ha incontrato una pattuglia dei carabinieri a cui ha chiesto aiuto, sostenuto dal padre, che era salito in auto con il figlio violento nel tentativo di calmarlo. Il 71enne ha denunciato quindi il figlio ventenne, che è stato segnalato alla procura della Repubblica di Padova per minaccia ed allontanamento d'urgenza dal nucleo familiare.